Buon salve a tutti ragazzi, un saluto a Matt e bentornati su Nerd is the Way con un video leggermente diverso dal solito. Vado dritto al punto, ho notato che ho avuto diversi grossi problemi con OBS. Non vi so dire assolutamente il motivo, magari forse anche per il fatto che non sono molto esperto del programma, ma come ho scritto ad alcuni di voi su Discord, il primo video che ho realizzato, registrato, che era praticamente il 53, l'ho realizzato normalmente senza nessun problema, tranne per il fatto che OBS è crashato e crashando ha deciso di smettere di funzionare. Non mi ha avvisato della cosa, io ho continuato tranquillamente a registrare il mio video e la soluzione è stata che mi ritrovo quindi una registrazione di 10 secondi. Va bene, poco male, vi ho scritto su Discord che non era successo niente di che, perché comunque si trattava solamente di una, come si dice, di una lotta ai ribelli, quindi ho detto, va bene, vi faccio un riassunto nell'episodio successivo, così da avere tutto sommato la conoscenza, ecco, di quello che era successo in game. Quindi sono andato avanti e ho registrato i due episodi successivi, in modo tale che erano collegati. Bene, partita la registrazione, OBS non si è chiuso, però ovviamente non potevano esserci troppe gioie tutti insieme, oggi è la giornata sfortunata, ed è successo questo. Come vedete questi sono episodi 54 e 55 che ho registrato, e mi ritrovo con un video che è... Ecco, sentite la musica di... Ok, ecco, sì, sì, si sente la musica di Europa Universalis 4. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da me e bentornati. Ma non c'è il video, non c'è il video e non so il perché. Ma adesso, vediamo un attimo, graficamente mi piace... Il problema è parecchio grosso, anche perché non tanto nell'episodio 54, ma nell'episodio 55 c'era un grossissimo evento, si era formata una mega coalizione europea, roba da colossale, si parla di 15-20 stati, la coalizione stava andando anche benissimo, ero riuscito a reggere la coalizione da sola, poi in ultima fase erano entrati gli alleati, era stata davvero molto molto coreografica e bella da vedere, però come notate la situazione è questa, mi ritrovo con... Mi ritrovo con una registrazione dove si sente benissimo il suono, ma purtroppo non si vede il video e non posso ovviamente registrare nuovamente l'episodio, quindi il problema è questo ragazzi, ditemi voi che cosa preferite fare, cosa ritenete che sia meglio o più opportuno fare, o vi faccio un video con il mio faccione dove vi racconto in 5 minuti che cosa è successo in questi 3 episodi, quindi dalla soppressione dei ribelli fino all'inizio della coalizione, poi il prossimo episodio vi ritroverete magari già nel 1726, rispetto a quando avete lasciato l'episodio nel 1717, oppure magari vi carico direttamente gli episodi senza video ma solo il parlato, però non credo che sia di comprensione molto facile, non vedendo nulla, io potrei capire perché l'ho giocato, voi non credo, quindi ditemi voi che cosa ne pensate, al peggio se ritenete che la scelta migliore sia quella del mio faccione, che vi fa un riassunto da 5 minuti, venerdì vi beccate il riassuntazzo brutto da 5 minuti, scusate ragazzi ma non so proprio che cazzo sia successo con OBS, mi spiace.